Il titolo della lezione di oggi è indicativo, a pagina 15 lo trovate ed è alle origini della lingua italiana. Oggi dunque faremo questo percorso come un viaggio nel tempo, in quella macchina del tempo, per scoprire come è avvenuto il passaggio dalla lingua latina alla lingua volgare. Da latino dunque alla volgare. Che cosa sappiamo noi oggi? Sappiamo che l'italiano è una lingua che noi parliamo ed è una lingua che deriva dal latino. In particolare sappiamo che la lingua italiana, l'italiano, è il risultato di una lenta e costante evoluzione della lingua parlata, la lingua volgare perché deriva dal latino vulgus che significa popolo, attraverso i secoli. Il latino scritto invece si conservò mai cambiato nel tempo. Perché? Perché è legato a modelli più rigidi, soprattutto di tipo letterario. Più volte abbiamo ricordato come politicamente l'impero romano d'occidente era ormai terminato nel 476 d.C. E subito dopo, insomma, cambia anche dunque il modo di parlare di tante di quelle genti, di quelle persone, di quei popoli che vivevano nei territori che erano stati dell'impero romano d'occidente. Tutto questo portò alla nascita delle lingue neolatine, chiamate anche lingue romanze, tra cui anche la nostra, il volgare italiano, il francese, il provenzale, lo spagnolo, il catalano, il portoghese, il rumeno, il ladino, parlato ancora oggi, in alcune vallate della Svizzera, ma come abbiamo visto in geografia recentemente, peraltro, anche in Trentino Alto Adice e in Friuli Venezia Giulia. Quali furono però i primi documenti in volgare italiano? A questa domanda cercheremo di dare una risposta con alcuni appunto esempi, con alcuni documenti che ci sono rimasti negli archivi. Possiamo dire che i primi documenti scritti in lingua volgare in Italia risalgono al periodo che va tra il IX e il X secolo dopo Cristo. Il più antico, ed è anche abbastanza famoso, si chiama indovinello veronese. Chiamato così perché? Perché venne composto da uno scrivano, uno che scriveva, uno scrittore veronese, intorno all'ottocento dopo Cristo. E come dicevo prima, ancora oggi è conservato a Verona, in archivio. Che cosa diceva questo indovinello? Leggiamolo sempre a pagina 15. Separeba boves, alba prataglia raba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba, grazias tibi agingus, omnipotens, sempiterne deus. C'è anche sul nostro libro la traduzione in italiano, leggiamola. Spingeva avanti i buoi, arava bianchi prati, et nero, un bianco aratro, e seminava un semenero. Ti rendiamo grazie, o Dio onnipotente ed eterno. Insomma, avete sentito, e cerchiamo di capire il significato di questo indovinello. Perché? Perché lo è sul vero senso della parola. E l'indovinello vero e proprio è contenuto nei primi quattro versi. Cerchiamo di vedere come va interpretato, mentre in alto, chi è il libro davanti, può anche vedere il manoscritto, appunto scritto in mano, dell'indovinello veronese. Il primo verso dice così, parla dei buoi, ma i buoi in questo indovinello, che cosa rappresentano? Rappresentano le dita dello scrivano. Nel secondo verso abbiamo dei bianchi prati, che in realtà sono i fogli di pergamena, sui quali appunto venivano scritti questi versi all'epoca. Il terzo verso parla di un bianco aratro, che in realtà è la penna d'oca, in tinta appunto nell'inchiostro, utilizzata per scrivere. Infatti nel quarto verso viene citato il seme nero, che in realtà anche qui è, come dicevo in alto, l'inchiostro. Vedete, questo dunque è il primo documento di lingua italiana in volgare conservato a Verona. Ma c'è anche un secondo documento, chiamato Placido di Capua, oppure Carta Capuana. Si chiama così perché? Perché è una sentenza giudiziaria scritta nella località Campana, Capua fa parte della Campania, nel 960 d.C. Qui abbiamo due contententi, uno dei quali era l'abate di Monte Cassino, che rinindicavano la proprietà di alcune terre. Dall'altro lato abbiamo il giudice Arichisi, che raccolse la deposizione di un testimone a favore dell'abate. Il Placido di Capua dice così Sao cochelle terre, so che quelle terre, perché le fini, quechi contene, con quei confini che qui nella carta si contengono, 30 anni le possette, le possedette per 30 anni, parte i Santi Beneditti, la parte di San Benedetto. quindi, vedete, insomma, abbiamo una testimonianza, una deposizione, che contiene alcuni elementi latini, di lingua latina, vedete, Santi Benedetti, ma anche alcuni aspetti in volgare, che sono appunto prevalenti. Il Co, con la K, vedete, Chelle con la K, terre, parte. Qui, man mano che la borghesia aumentava i propri affari, cresceva anche la necessità di tenere aggiornati i registri, di preparare resoconti, rapporti, lettere e così via. Questi documenti, possiamo osservare, venivano redatti non più in latino, ma in volgare, per renderli chiari, comprensibili a tutti i destinatari, perché naturalmente, poche erano le persone, che conoscevano, e parlavano, la lingua latina. Nello stesso tempo, alcuni autori, cominciarono a utilizzare il volgare, anche per opere di invenzione, scritte per rintrattenere o comunicare emozioni e sentimenti, cominciarono cioè a fare un uso letterario del volgare, a partire dal XII-XIII secolo. Il volgare italiano, ricordiamolo, si affermò anche così come lingua letteraria autonoma. sul nostro libro potete ammirare un foglio di pergamena interessantissimo, che appartiene proprio a questo periodo, che è anche dunque il manoscritto dell'Aplacito di Capua, come potete osservare. Per concludere la lezione, vi invito a studiare pagina 17, dove avete anche un'utilissima tabella. all'interno di questa pagina si vala dei primi esperimenti di letteratura in volgare. Questa produzione poetica si può classificare in quattro correnti. la poesia religiosa, che si diffuse soprattutto in Umbria a partire dal 1224, la scuola poetica siciliana, che nacque a Palermo, presso la corte di Federico II, nella prima metà del 200, il Dolce Stilnovo, una scuola poetica che nacque a Bologna e si sviluppò successivamente in Toscana e in particolare nella città di Firenze, tra la fine del 200 e l'inizio del 300. Ricordiamo, poi lo vedremo, in Dante uno dei suoi poeti più importanti. In ultimo abbiamo la poesia comico-realistica che si diffuse in Toscana, in particolare nella città di Siena. Le esperienze in prosa di letteratura in volgare si svilupparono più tardi rispetto a quelle poetiche. Possiamo distinguere due tipi di narrazione in prosa. La novella, rappresentata soprattutto dal novellino una raccolta di 100 novelle opera di un anonimo autore fiorentino di cui appunto non conosciamo il nome. E poi abbiamo i racconti di viaggio di cui il più importante lo abbiamo già incontrato in storia e il libro Il Milione quello scritto dal veneziano Marco Polo considerato il primo esempio di prosa scientifica moderna. Sempre a pagina 17 come dicevo prima abbiamo dunque una tabella molto interessante che potete studiare e vi aiuta un po' nella ricostruzione dei concetti principali che abbiamo spiegato fino adesso ma anche un po' insomma a ricordare quali sono i poeti più importanti di questo periodo che poi studieremo naturalmente. Abbiamo il quando che appunto rappresenta il periodo in cui appunto si ha insomma questo genere poetico per esempio dal 1224 abbiamo in Umbria la poesia religiosa oppure le laudi vi ricordate le famose lodi che vi ho spiegato anche in classe stamattina i cui esponenti principali erano Francesco da Sisi e Jacopone da Todi i temi erano la lodi di Dio della Vergine dei Santi delle Creature poi leggeremo per esempio il brano storico più importante il Cantico delle Creature di Francesco da Sisi famosissimo ancora abbiamo la lirica d'amore che veniva appunto scritta presso la corte di Federico II a Palermo tra il 1230 e il 1250 i cui esponenti principali furono Jacopo Dalentini Pier delle Vigne Guido delle Colonne Stefano Protonotaro abbiamo parlato dunque di come questi poeti scrivevano soprattutto poesie liriche d'amore la scuola era quella appunto siciliana e il tema principale era l'analisi della natura dell'amore un'altra scuola importante invece che dobbiamo ricordare anche questa che insomma scrivevano i poeti liriche d'amore era quella dello Stilnovo nato in Toscana l'abbiamo detto prima prima Bologna poi si diffonde in Toscana 3280 e 1310 vedete tra i poeti più importanti abbiamo Guido Guinizelli Guido Cavalcanti Dante Adighieri Lapo Gianni Ciro da Pestoia e qui abbiamo come temi principali l'amore spirituale la donna angelo la nobiltà d'animo di una persona di una donna l'interiorità del poeta il perfezionamento orale altra poesia importante altro genere poetico di questo periodo fu quella della poesia comico realistica che insomma si diffuse soprattutto intorno al 1250 e il 1300 circa in Toscana e che ebbe in cieco angiolieri il principale esponente stamattina vi ho raccontato che cecco angiolieri è un personaggio che raccontava scriveva poesie dove i temi principali erano il gioco il denaro il cibo l'amore carnale insomma poi leggeremo qualcosa anche di cecco angiolieri per quanto riguarda invece la prosa lo ripeto abbiamo il novellino un genere che si diffonde tra il 1280 e il 1300 a Firenze con temi vari finalità di divertimento e di dascalici soprattutto di insegnamento e poi abbiamo avuto Marco Polo con il milione con la letteratura di naggio alla fine del 200 a Venezia che si diffonde i cui temi principali erano i viaggi le avventure gli usi e i costumi di popoli stranieri ben raccontati da Marco Polo che fu senza dubbio uno dei viaggiatori più importanti e anche più famosi di questo periodo storico a pagina 18 del nostro libro abbiamo una mappa per lo studio che vi riassume i concetti storici che abbiamo studiato fino ad oggi abbiamo gli aspetti storici e sociali del periodo abbiamo visto insomma l'Europa e l'Italia come erano costituiti in questo periodo e poi vedete abbiamo il 200 naturalmente quando parlo di 200 qua mi riferisco al 1200 con la nascita di nuove lingue i volgari che derivano dunque dalla lingua parlata dal popolo le lingue latine le vedete romanze sono ripeto l'italiano il francese lo spagnolo il portoghese e il rumeno ricordate questo che importante tra i primi documenti scritti in volgari italiano abbiamo l'indovinello veroninse il placito di capua e poi per quanto riguarda vedete i primi passi grazie alle prime scuole di letteratura volgare in Italia ricordiamo dunque le scuole che si riconducono alla poesia religiosa alla scuola poetica siciliana al dolce stinnovo alla poesia comico realistica abbiamo già visto prima dove nascono la poesia religiosa in Umbria la scuola poetica siciliana a Palermo il dolce stinnovo prima a Bologna e poi si diffonde in Toscana la poesia comico realistica a Siena e abbiamo visto anche naturalmente il periodo in cui nascono in basso abbiamo anche elencate le caratteristiche e i temi di ogni scuola poetica di questo periodo si va dunque da la ritorna alla semplicità del cristianesimo con la poesia religiosa all'amore cortese di questo periodo dei cavalieri alla donna come perfezione all'amore spirituale la donna angelo a Malla per questi poeti mi riferisco agli stinnovii cristi significava poi lo vedremo raggiungere Dio la nobiltà d'animo del poeta e poi abbiamo invece temi riguardanti lo ripeto la poesia comico realistica riguardanti appunto la vita quotidiana il denaro il gioco il cibo l'amore la poesia scherzosa e comica tra i poeti ai massimi esponenti ricordiamo ancora San Francesco d'Assisi Jacopo d'Alentini Pier della Vigna Rinaldo d'Aquino Guido Cavalcanti Dante Alighieri Guido Guinizelli Cecco Angiolieri questi saranno i poeti di cui parleremo nel nostro viaggio letterario che cominceremo alla ricerca delle origini della nostra letteratura italiana grazie